Nel prossimo numero della rubrica presupposti del mensile Dr. Ross parleremo per una volta non di fisco o di norme con rilievo tributario, ma parleremo di argomenti di interesse generale per il professionista, ossia un'analisi del pur periodo che continua a essere complicato per non dire difficile del settore odontoiatrico, ma andremo ad analizzare quali sono stati in questi anni, quindi con un'analisi temporale relativamente ampia, i fattori di successo degli studi o delle cliniche che nonostante il periodo di crisi o quantomeno di difficoltà e di aumento della concorrenza nel settore odontoiatrico, sono comunque riuscite a ampliare il proprio volume di attività e soprattutto il loro numero di pazienti con anche soddisfazioni economiche a riguardo. Quindi analizzeremo da un lato l'aspetto connesso alla conoscenza del paziente in primo luogo e ai modi per raggiungere il paziente comunicando le proprie competenze e le proprie peculiarità da un lato, per soffermarci poi sull'attenta analisi che il professionista, anche se questo esula dalla sua naturale formazione, deve comunque occuparsi dei numeri dello studio, quindi il cosiddetto controllo di gestione, quindi l'analisi di alcuni fattori importanti connessi alla propria attività professionale, che alle volte, ma non sempre, vede alcuni professionisti un po' refrattari. Tuttavia però questo è una componente fondamentale della conoscenza della propria attività internamente, perché dai numeri vengono forniti dei segnali di alcuni comportamenti corretti o non corretti da parte della struttura e in un certo modo del professionista in quanto gestore della propria struttura. E infine poi un'analisi sul tema delle competenze, quindi degli approfondimenti e delle crescite professionali, tecniche e sanitarie che appunto il professionista e in alcuni casi professionista imprenditore, dove si trova a gestire una struttura ampia, deve avere, sicuramente in ambito clinico, ma non solo in ambito clinico appunto dicevamo. Non mi resta quindi che augurarvi buona lettura e arrivederci.